Più pazienti in ospedale sia nelle terapie intensive sia nei reparti ordinari, in salita seppur di poco, anche l'indice RT calcolato sui casi sintomatici. Stabile invece l'incidenza ogni 100.000 persone sono i numeri, riferiti al territorio nazionale, dell'ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute. Questa settimana si osserva una sostanziale tendenza alla stabilizzazione del tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese, siamo a 386 casi per 100.000 abitanti, mentre la scorsa settimana eravamo a 388 per 100.000. L'RT mostra invece una lieve tendenza all'incremento, siamo a 1,14, quindi ancora al di sopra della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 13,3% e al 3,2%, quindi mostra una tendenza all'incremento, anche se siamo e rimaniamo al di sotto di qualsiasi soglia di criticità, quindi ben lontani da situazioni di congestione delle strutture sanitarie. In Molise i valori relativi all'occupazione dei posti letto sono rispettivamente del 6,3% e del 2,6%, in regione l'RT è pari a 1,17, 1,14 la media nazionale, mentre l'incidenza dei casi di Covid-19 ogni 100.000 abitanti scende da 271,1 a 264,1. Grazie a tutti.